Stai registrando, no? Ecco, devo aprire... Mischkenazza... Un recipiente, quello che ti... Eh? Una tattarura, così... Siete attenti, sennò che ho morso... Eh, misci... Quella mettiamo con la testa a tallare! Eh, sì... Eh, almeno... Almeno lo so... Ma... Ma vediamo, però... Un mezzo... Ma andavo a... Lo capivo... Ma andavo a lavare sotto i figli... La cunayamma... Occhia... E brazza... La patola... Una a casa... Una a casa... Una a casa... Minchia... Leggera... La cosa viene più facile... Bene, calate, minchia... Aspetta un'altra... Grazie, calate... Ci facciamo tutti due... Ci facciamo... Cacima viene più facile... La cunayamma... Ma che devi fare... Dove devi affaggiare le mani sotto... Non lo so... Non lo so... Non lo so... Da sotto la testa... Da sotto... Da dietro... Di qua... Non lo so... Mi... Inizia... Poggiù... Pianco... Pianco... A testa... A testa... A testa... A testa... Non lo spezzate... La cacchizzante... E' camola... No... La sas... La sas... Non c'entra... Mette la mano che... La ricca salvatore... Mette la mano che... Non c'entra... Prendi te Grazie a tutti.